L'Italia, il nostro paese, è contraddistinto da un'enorme quantità di beni artistici, opere pittoriche, scultore, architettoniche. È un paese di artisti che da sempre sono stati protagonisti della scena europea. Noi, tutti gli diciamo che non vogliamo portare avanti queste cose. Perché crediamo fermamente che l'arte possa essere in mezzo di promozione per la cultura, il turismo, per l'economia del paese. La nostra missione è quella di creare, di progettare, di recuperare e restaurare beni artistici. Perché ci piace l'arte, disegnare, dipingere, modellare e scolpire, ideare, sensibilizzare, promuovere e comunicare. Basta un pizzico di talento e un po' di impegno. Vieni a trovarci, ti aspettiamo! Vogliamo iniziare? Vieni a trovarci, ti aspettiamo! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti